Come state? Un saluto e ben ritrovati, una buona domenica, vi ricordo come sempre di commentare numerosi, di iscrivervi e di provare a vincere la maglia di Mignan, come iscrivendovi a questo canale, seguendo su Instagram ebbe Bivalli e scaricando dal link qui sotto l'app di Numero Diez. Due temi in questo video, il primo che è una bellissima sfida fino a questo momento al vertice tra Milan e Inter che vanno insieme e sono al momento prima in classifica. Vediamo oggi cosa fanno Juve e Atalanta, se la Juve tiene in qualche modo il passo, resta aggrappata o se perde punti si inizia a creare un solco. Sfida davvero bella, bella, bella. Però ecco, volevo sottolineare due aspetti, due giocatori. Da una parte Rafa Leao che ha fatto due assist molto belli. Leao fin qui ha partecipato a 9 gol su 15 del Milan. Tre realizzati, quattro assist e due rigori procurati. Giocatore davvero fortissimo. Giocatore che ha ancora margini di miglioramento, spesso discusso, che però è determinante, lo è stato anche ieri. Dall'altra parte Lautaro Martinez. Ieri senza Lautaro l'Inter, siccome non l'avrebbe portato a casa. Sette partite, nove gole, due assist. Ha partecipato a 11 reti in 7 partite. Una rete ogni 61 minuti di gioco in Serie A. Davvero incredibile. Ha fatto tra l'altro un gol in una partita di Champions. Quindi ha già 10 gole e due assist in 8 partite. Giocatore incredibile, fortissimo. Che rappresenta secondo me buona parte dell'Inter. Così come Leao, buona parte del Milan. Giocatore che, sinceramente, mi chiedo come sia ancora in Italia, visto che comunque sapete che all'estero hanno un potere economico superiore. E lui davvero è qualcosa di micidiale, sottoporta. Grande sfida a Milan-Inter. Grandi giocatori. Leao, Lautaro Martinez. E una sfida che vedremo se vedrà coinvolta anche la Juventus, che oggi giocherà con l'Atalanta oppure no. Ditemi le vostre impressioni. Pensate nella stessa squadra. Leao e Lautaro. Mamma mia. Un abbraccio, buona domenica. Ci vediamo dopo comunque. Sfida fantastica e giocatori clamorosi. Un abbraccio.